Bene secondo voi, qual è il giudizio? Renzi è andato a chiedere un po' di lemosina alla Merkel in cambio delle fantomatiche riforme istrutturali che tanto piacciono proprio alla Merkel. Contro le tante facce dell'austerity il Movimento 5 Stelle andrà in Europa per i diritti, per la solidarietà e per le nuove opportunità di un'Europa migliore. Quindi a voi non ha convinto?